Allora, intanto vi do il benvenuto a alcune informazioni di servizio di quello che trovate sulla cartellina. Sulla cartellina trovate una raccolta nella chiavetta di tutti i materiali, salvo qualcuno che poi vi verrà mandato via mail per motivi di preparazione e rifinitura dell'ultimo minuto. Trovate una presentazione dei relatori per cui io su questa correrò abbastanza veloce e trovate una bibliografia essenziale fatta da librerie.cop che ringraziamo con testi sul tema sia usciti ma sia di prossima pubblicazione. Quindi è stato fatto un lavoro molto raffinato da librerie.cop che ringraziamo per la messa a disposizione di questa piccola bibliografia. Ma io parto facendo una constatazione abbastanza ordinaria di questi tempi e che siamo un paese strano nel quale si fanno i convegni sugli under 40 definendo giovani quelli che arrivano fino a 40. Molto probabilmente fra qualche anno definiremo giovani quelli che arrivano fino a 45 e via andare. E questa è una cosa strana perché l'altro giorno ravanando in rete ho scoperto che Einstein a 26 anni aveva già scritto i tre articoli fondamentali sulla relatività ristretta e sulla teoria quantistica. Piero Gobetti è morto a 25 anni e aveva già fatto un pezzo importante. E Andreotti Belzebù a 26 era sottosegretario della Repubblica. Quindi voi capite che c'è stata un'involuzione di questo paese da questo punto di vista. L'altro giorno abbiamo letto che secondo un'indagine promossa da Eurostazio, non sbaglio, prossimamente i giovani italiani, le persone come giustamente dice Enrico, diventeranno autonome oltre i 40 anni. Oltre i 40 anni vuol dire che cominceranno ad avere casa, un reddito e la possibilità di costruire una vita fuori dal guscio oltre i 40 anni. Voi capite che è un paese abbastanza strano da questo punto di vista. E quindi, come dire, forse è il caso di indagare questa cosa. Tra l'altro, come giustamente stolineava Mauro, per le cooperative di consumo questo è un fattore importante perché è venuto o meno per ovvi motivi l'appartenenza ideologica alla cooperativa. E' chiaro che essendo la cooperativa di consumatori una cooperativa di utenza la gente si fa socio quando comincia a fare la spesa. E la gente comincia a fare la spesa quando comincia ad abitare da sola. E se la gente comincia ad abitare da sola a 40 anni e non a 30 qualche problemino nell'intercettare le persone che hanno meno di quell'età dovremmo anche porcelo. Ovvero di porci il problema di come quando questi cominciano a fare la spesa cominciano a venire da noi. Il tema è da far tremare le vene e i polsi però insomma siamo qua per tentare di capire. Tra l'altro oggi io credo che l'impostazione della giornata dovrebbe essere un'impostazione prima di tutto di ascolto. Perché di ascolto? Perché insomma io mi ricordo quando ero giovane una delle cose che penso a tutti noi che dava maggior fastidio era quello di sentire a dire da quelli più anziani cosa dovevi fare cosa dovevi non fare, quali erano i valori di riferimento. Su questo non è questa una generazione particolare che non viene conosciuta. Ricordo di aver letto un po' di tempo fa su un libro di Guido Crimes credo ma potrei sbagliarmi credo sul paese mancato lui studiava la connessione dei giovani negli anni 60 e recuperò un verbale della direzione del PC del 65-66 nel quale non ricordo se Amendola o Paietta si lamentavano della scarsa reattività dei giovani che non erano particolarmente predisposti al lavoro collettivo che non erano interessati ai destini collettivi cioè di quelli che due anni dopo avrebbero fatto il 68 quindi l'idea e il PC era una cosa organizzata bene ascoltava quindi l'idea che di avere noi la ricetta per i giovani che non conosciamo è un rischio che abbiamo sempre corso per cui oggi il tentativo è quello di ascoltare di ragionare su quello che i giovani vogliono dirci ascoltando quelli che i giovani ci lavorano ogni giorno e quindi hanno un punto di vista un po' più approfondito un po' più ampio di quello che potremmo avere noi e tentare di capire come organizzare il lavoro di Coop da questo punto di vista per tentare di intercettare le giovani generazioni tentativo che va fatto che non è detto che porti i risultati perché come tutti i tentativi non ha la certezza del risultato e però io credo che pure non avendo la bacchetta magica è obbligatorio interessarsi del futuro perché come c'era scritto su quel muro di Berkeley è il luogo dove passeremo il resto della nostra vita quindi mi pare obbligatorio che dovremmo interessarci del futuro da questo punto di vista io ho finito do subito la parola a Massimo Di Braccio di Kien Kien come diceva prima Mauro è una società di consulenza sul cliente che ha approfondito le proprie competenze sull'analisi del consumatore e sulla gestione di gruppi di lavoro per cui do subito la parola a lui e auguro a tutti voi e a noi buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti